Colleghi per favore, capisco la diretta televisiva, però chiedo ai colleghi di togliere i cartelli, in caso contrario sono costretto a sospendere la seduta, ma non vorrei farlo visto che siamo in diretta. Il signo, se città la festa, dove la vittoria, che voglia la piuva, che si ama di Roma, di Dio la creò. Buongiorno, abbiamo deciso di aprire con la notizia politica della giornata di ieri, il primo sì di un lungo iter parlamentare del disegno di legge Calderoni per la riforma del titolo quinto della Costituzione, autonomia differenziata, il clima era quello che avete visto, con questo inno di Mameli, che però era stato intonato, era partito polemicamente dai banchi della sinistra, poi si è associata alla destra altrettanto politicamente. Allora, partiamo da qui con invece una puntata che è anche ricca di temi, riflessioni internazionali, perché oggi, lo avete visto al telegiornale, è anche il giorno in cui Donald Trump ha vinto in New Hampshire e quindi analizzeremo anche questo, ne stiamo parlando in questi giorni, era atteso questo voto. Allora, ne parliamo con Marco Minniti, ex ministro dell'interno, oggi presidente della fondazione Medor, dedicato al Mediterraneo, del gruppo Leonardo, con il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. Buongiorno, allora, io partirei da quello che viene definito dal segretario del Partito Democratico, un baratto ignobile, autonomia contro, in cambio del premierato all'interno della maggioranza e che viene, come dire, imbracciato, c'è un sud molto polemico, rischio secessione. Come la vede Minniti? Ma io la vedo come un azzardo innanzitutto istituzionale, nel senso che noi abbiamo avuto, soprattutto negli ultimi anni, l'evidenza di una crisi drammatica del modello regionalista in Italia. La cosa è esplosa drammaticamente con il Covid. Se non ci fosse stato lo Stato centrale, probabilmente gli italiani sarebbero stati costretti a sacrifici molto più gravi di quelli che già ci sono stati. Ora, l'idea che dopo quell'esperienza di una crisi drammatica del regionalismo e puntare tutto sulle regioni, tra virgolette, mi sembra un azzardo, oltre che politico, naturalmente poi la politica fa gli azzardi che vuole, istituzionale, perché rischia di creare danni irreversibili al sistema del nostro paese. Perché quel regionalismo nato nel 70 non ha funzionato. E rilanciarlo oggi significa fare una cosa contro il tempo. Con delle responsabilità, la sinistra volle fare quella riforma? Ma guardi, le responsabilità sono collettive, perché dal 70, diciamo, fino al 2024, in questo paese c'è stata un'alternanza. Si è incominciata, diciamo, con i governi della democrazia cristiana, del Partito Socialista. Non è questo il tema. Il tema che in questo momento, tra l'altro, nello scenario così complicato del 2024 a livello internazionale, indebolire lo Stato nazionale, mi sembra sinceramente una cosa che rischia di provocare danni, non solo sul terreno interno, ma anche sulla forza internazionale del nostro paese. Tra l'altro, un governo di destra, che mette in crisi lo Stato nazionale, tra virgolette, appare una contraddizione. La vede questa contraddizione. È d'accordo, direttore? Sei d'accordo, Maurizio? Le competenze delle regioni sono previste, ovviamente, dalla nostra Costituzione. Il punto è quali competenze dare alle regioni. Il punto interrogativo, secondo me, di questa iniziativa legislativa di Calderoli è che si consente alle regioni anche di avocare a sé poteri sull'istruzione e sulla sanità. La nazione italiana, l'Italia come paese, ha dimostrato, giustamente diceva Marco Minniti, di fronte all'emergenza della pandemia, la necessità di avere una sanità più nazionale, più integrata, ma attenzione, noi abbiamo bisogno di un'istruzione nazionale integrata per impedire che le differenze non divengano diseguaglianze. Avere un paese dove il livello di istruzione a causa dei livelli salariali sia diverso fra le regioni del nord, del centro e del sud, può essere una mina devastante per l'unità nazionale del paese, per la formazione dei nostri cittadini. Chiunque nasce in un piccolo centro di una regione minore e nel cuore di una metropoli deve avere diritto allo stesso livello di istruzione e alla stessa qualità di salute. Mettere a rischio questo diritto significa creare delle diseguaglianze fra i cittadini sulla base della legge. È lì che c'è il rischio più grave di fronte al quale noi stiamo andando. Non sarebbe garantito da questi livelli essenziali di prestazione che devono essere individuati, attuati da molto tempo. Diciamo che è un processo molto rischioso per chiunque conosce il nostro paese. Forse è preferibile il processo opposto. Prima creiamo delle condizioni che garantiscono l'uguaglianza fra i cittadini e poi vediamo quali poteri si possono delegare alle regioni. Vengo ai temi e naturalmente ci sarà modo di continuare a parlarne. Anche, non so, questo voglio ancora chiederlo a Marco Minniti con l'esperienza parlamentare. Questo è un primo passo ed è comunque una riforma subordinata anche all'individuazione di questi livelli essenziali. si annuncia un percorso lungo e questo è solo, come dire, una cosa che la Lega voleva per la campagna elettorale? Naturalmente contano anche le questioni di campagna elettorale. Purtroppo in un mondo, non soltanto in Italia, in un mondo in cui le campagne elettorali finiscono per contare più di tutto. C'è anche il percorso delle riforme istituzionali, il premierato. C'è l'idea che in qualche modo possa esserci uno equilibrio, uno scambio politico, un premierato forte che rafforza fortissimamente lo Stato centrale, le autonomie. Il problema è che tutto questo non si compone con le mediazioni politiche perché se si sbaglia su questo si sfascia lo Stato. Allora, io ero rimasta colpita da un'intervista che ha rilasciato alla stampa qualche giorno fa in cui lei diceva che a proposito di una cosa alla quale Giorgia Meloni tiene molto e cioè le politiche di immigrazione, gli accordi e queste anche missioni, quella in Turchia è stata molto importante, lei diceva che l'aiuto di Erdogan sui migranti è un errore per l'Italia e anche per la Libia. Perché? Quindi, diciamo così, dava un giudizio negativo su questo particolare aspetto della missione in Turchia? Come risulta chiaramente dal testo, io penso che il Presidente del Consiglio abbia fatto molto bene a incontrare Erdogan, Erdogan è un protagonista della scena mondiale ed è giusto che l'Italia abbia rapporti. L'Italia può discutere, deve giustamente discutere, se lo vuole fare, un accordo sul governo dei flussi migratori che partono dalla Turchia. Ci sono flussi migratori che partono dalla Turchia, in questo momento sono, tra virgolette, una quota molto minoritaria, non può discutere. Sarebbe, diciamo, un riconoscimento della sovranità turca in Libia, che è una cosa che non è accettabile, non è accettabile alla comunità internazionale, penso che sia meno accettabile addirittura per l'Italia. Perché nel momento in cui io riconosco una sovranità turca nella parte ovest della Libia, cioè in Tripolitania, dovrei riconoscere di pari passo una sovranità russa nella parte est della Libia e cioè in Cirenaica. Questo sarebbe, prima, una cosa che renderebbe difficilissimo il lavoro della comunità internazionale, il lavoro delle Nazioni Unite che attraverso il proprio inviato speciale stanno offrendo aiuto per tenere un vita la Libia, sarebbe qualcosa che va contro l'interesse nazionale del paese. Perché riconoscere che la Libia di fatto diventa divisa in due, con due protettorati, uno turco e uno russo, è un drammatico errore per l'Italia e per l'Europa. L'Italia e l'Europa insieme con le Nazioni Unite devono lavorare perché la Libia si riunifichi. Ci sia un governo unico invece dei due oggi presenti e ci sia la capacità di avere un governo che dia nuovamente la parola ai libici anche attraverso nuove elezioni. Ma più in generale questo procedere per protocolli sta funzionando perché quello della Tunisia poi non è andato benissimo anche un'applicazione quello con l'Albania è diventato una cosa piccola. Sono due cose differenti Tunisia ed Albania. La Tunisia tuttavia in qualche modo sta funzionando nel senso che il numero degli arrivi della Tunisia per una fase diciamo della fine dell'anno è drasticamente calato. Naturalmente con un meccanismo molto delicato perché come è noto quel patto firmato anche dall'Unione Europea è stato di fatto rispinto da Sayed poi che non ha più voluto quella che lui considerava un'elemosina dimostrando anche quanto sia difficile discutere con i paesi africani e come bisogna avere un rapporto di reciproco rispetto. E con l'Albania è un'altra cosa con l'Albania è l'idea di poter avere un paese terzo che ospita i migranti che sono arrivati in Italia e lì è un gigantesco cortocircuito e vorrei soltanto ricordare che l'idea in qualche modo vuole evocare il modello Rwanda scelto dal Regno Unito e vorrei anche ricordare che il modello Rwanda diciamo prima bocciato dalla Corte internazionale e dalla Corte dei diritti umani inglese e poi rimesso in campo nuovamente dal primo ministro britannico quando è stato messo in campo aveva l'idea di bloccare gli albanesi cioè l'idea era siccome c'è un flusso troppo alto di albanesi nel Regno Unito tra virgolette noi li portiamo in Rwanda e per cui abbiamo che gli albanesi gli inglesi li vogliono portare in Rwanda noi gli africani vogliamo portarli in Albania c'è qualcosa che non funziona l'Europa appare in uno stato di confusione d'accordo ma la sfida per fermare i migranti richiede secondo me da parte dell'Italia un'impostazione strategica molto più aggressiva e sofisticata di quello che in questo momento sta avvenendo per avere un'idea dello scenario la Russia è riuscita grazie a un patto di sicurezza con il Niger ad assicurarsi una rotta che porta dal Sahel fino alla Cirenaica totalmente controllata dalla Federazione Russa e dai suoi mercenari in Niger ci sono interessi europei l'Italia e prima ancora la Francia aveva nel Niger un interlocutore privilegiato c'è stato un colpo di Stato il colpo di Stato ha allontanato i francesi il governo italiano ha trattato con i colpisti il punto è che non ha portato a compimento le trattative con i colpisti e quindi è arrivata la Russia la Russia ha fatto l'accordo con il Niger e si è impossessata del territorio del Niger questo significa che le rotti dei migranti che dal Sahel arrivano fino alle coste del Mediterraneo oggi sono in mano alle espressioni dirette degli interessi del Cremlino allora è chiaro che non bastano singoli accordi con la Tunisia o con l'Albania serve un'azione concreta integrata dell'Europa l'Italia si può assumere questa responsabilità bisogna farla in maniera dichiarata e di alto profilo sapendo che dall'altra parte non c'è l'Albania c'è Vladimir Putin il nostro vero rivale nella gestione dell'emergenza migranti dall'Africa è Vladimir Putin cioè lo stesso leader che sta aggredendo l'Ucraina e sta sostenendo Hamas cioè la partita nel Mediterraneo è una partita che investe la nostra sicurezza nazionale dai migranti al terrorismo e ha bisogno di una scelta strategica di altissimo profilo non di singole mosse tattiche da parte della Presidente del Consiglio questo è aver nominato Putin e quindi a questo punto poi rinviamo Trump perché vorrei dare una notizia che stanno dando adesso le agenzie in realtà rilanciando un pezzo di Giacomo Salvini sul fatto quotidiano di oggi e cioè che la Lega in Senato presenta nella discussione di oggi un ordine del giorno che è diciamo implicitamente critico sull'invio delle armi perché contiene delle affermazioni e sicuramente creano problemi nella maggioranza perché questo è un emendamento questo ordine del giorno della Lega chiede al governo di farsi carico nelle competenti sedi europee di una concreta e tempestiva iniziativa volta a sviluppare un percorso diplomatico al fine di perseguire una rapida soluzione del conflitto ma mette a verbale che i 23 mesi di combattimenti hanno chiarito che nessuna delle due parti ha la capacità di ottenere una vittoria militare decisiva sull'altra ed è pertanto impossibile pensare ad una soluzione esclusivamente militare e altri accenti critici di questo tipo volevo parlarne perché mi sembra un segnale anche all'interno della maggioranza su questo la Lega spesso ha segnalato distingo e sì che ci fossero diciamo sensibilità diversa all'interno della maggioranza però insomma quando si presenta un ordine del giorno così a sorpresa come ci sono sensibilità molto diverse anche all'interno dell'opposizione come si è visto e io penso che noi siamo di fronte a un passaggio cruciale perché non dobbiamo mai dimenticare che Kiev Zelensky il popolo ucraino hanno combattuto anche per la nostra libertà e se noi dovessimo girare adesso la testa da un'altra parte sarebbe un drammatico errore e con il rischio di provocare l'isolamento dell'Ucraina e con il fatto che a un certo punto l'Ucraina può pensare che deve farla da sola che deve farcela da sola noi dobbiamo comprendere che ci sono stati c'è stato un popolo che ha avuto diecine di migliaia di morti diecine di migliaia di morti per difendere un pezzo della libertà dell'Europa perché se l'Ucraina si fosse arresa noi avremmo avuto la Russia di Putin ai confini della Nato con il rischio di una nuova guerra mondiale l'Italia gli Stati Uniti l'Europa non cito casualmente gli Stati Uniti gli Stati Uniti e l'Europa hanno il dovere di non dimenticarlo questo è un punto cruciale delle prossime settimane che si vede effettivamente più vacillante in questa fase per tante ragioni anche queste di politica delle campagne elettorali è una cosa che deve sì ognuno c'è chiaro ma noi dobbiamo guardare a un dato se negli Stati Uniti come è in corso la campagna preliminare poi ci sarà la campagna elettorale dovesse prevalere Donald Trump e cioè dovesse esserci un rilancio molto forte di America First gli americani pensano all'America tutto il resto viene dopo e questo sarebbe una drammatica sfida per l'Italia e per l'Europa e l'Europa non è pronta ad assumersi responsabilità nel Mediterraneo allargato e in Africa responsabilità che potrebbero diventare particolarmente rilevanti se io fossi diciamo tra virgolette uno che poteva avere qualche capacità decisionale incomincierei a lavorare per avere un'autonoma capacità della difesa europea abbiamo perso molto tempo perché dopo l'invasione russa dell'Ucraina abbiamo detto oggi o mai più la difesa europea sono passati due anni e non si è fatto nulla non è partito nulla dovremmo correre rapidamente perché potrebbe succedere che entro l'anno nel prossimo anno l'Europa debba assumersi delle responsabilità strategiche nel Mediterraneo e in Africa a cui non siamo oggi preparati mi consente di dire una cosa ultima sulla questione dell'immigrazione vede il tema fondamentale è quello di avere un accordo quadro tra l'Unione africana l'Europa le Nazioni Unite sull'immigrazione legale dall'Africa verso l'Europa io mi auguro che l'incontro di domenica che parte dal piano Mattei in cui saranno tuttavia presenti il segretario generale delle Nazioni Unite e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente dell'Unione Africana costituisca il primo nucleo di questo un accordo di cornice tra Unione Africana Unione Europea e Nazioni Unite le Nazioni Unite naturalmente per il rispetto dei diritti umani dentro il quale si fanno gli accordi bilaterali tra i singoli paesi e l'Italia può muoversi in quell'ambito Sull'immigrazione mi sembra che la linea del Partito Democratico di Ellis Line sia di marcare una distanza perlomeno con una parte delle sue politiche e degli accordi con la Libia e però dall'altra parte di recuperare il tema dell'accoglienza diffusa degli Sprar che le viene riconosciuto come la vede questa le dispiace no io tre anni fa ho fatto una scelta personale politica non sono pentito ogni mattina mi guardo allo specchio e dico bravo Marco che l'hai pensato in tempo di stare lontano dal ho fatto un'altra scelta è normale ma c'è uno passa un pezzo della sua vita a fare politica poi ne fa altro adesso fa altro se uno ha le risorse morali ed intellettuali fa d'altro e insisto ogni mattina mi complimento con me stesso Maurizio Molinari veniamo a Trump allora le notizie la regia può mandare un po' delle immagini della notte per noi naturalmente con questa vittoria e ha detto Trump Nicchiale la sua rivale in questa primaria anche nel New Hampshire ha perso e ha parlato come se avesse vinto abbiamo trionfato tre volte New Hampshire è la seconda vittoria che sia uno stato piccolo però insomma aveva un'importanza politica questo spiana la strada anche se Nicchiale ha detto che resta in campo e aggiungo così metto tutte le notizie diciamo quelle più fresche la reazione anche di Joe Biden che ha detto è chiaro che Trump sarà il candidato è in gioco la nostra democrazia facendo capire come si pongono i democraziani non c'è dubbio che Trump ha vinto le prime due primarie in Iowa e New Hampshire ma attenzione perché il sistema elettorale americano prevede che la nomination si conquista con la maggioranza dei delegati che vanno alla convention i repubblicani hanno in palio 1.215 delegati quindi quello che conta non è il voto delle percentuali ma il numero dei delegati in New Hampshire Trump ha vinto 11 delegati e Nikki Haley ha vinto 8 delegati quindi la differenza è veramente minore è veramente minore per questo Nikki Haley dice un attimo andiamo in South Carolina che è lo stato dove lei è stata governatrice e vediamo come finisce ricordiamoci il duello fra Barack Obama e Hillary Clinton all'inizio sembrava che Hillary Clinton fosse più forte poi alla fine il numero della conta dei delegati di fatto è stato decisivo a favore di Barack Obama anche se Barack Obama riuniva grandi folle però poi alla fine contava il numero dei delegati tutto questo per dire che da un punto di vista numerico la partita è ancora aperta non c'è dubbio che c'è un fenomeno Trump il fenomeno Trump è tanto più serio quanto soprattutto in Iowa ma anche in New Hampshire gli evangelici sono andati a votare per lui gli evangelici 4 anni fa quando lui perse le elezioni non sostenevano lui ma Pence il suo vice presidente adesso hanno cambiato e stanno con lui questo naturalmente dà alla piattaforma di Trump una forza molto notevole attenzione al comportamento di Biden il presidente uscente perché lui ha interesse al duello con Trump lui preferisce lui preferisce perché la realtà vera è che nei sondaggi di opinione Biden sta al 46% e Trump sta al 47% cioè Trump ha solamente un percentuale mentre Biden e Nicky Hall ci sono 10 punti cioè se Biden si trovasse di fronte a qualsiasi altro candidato sarebbe in grande difficoltà quindi il punto vero è che l'inquilino della Casa Bianca vuole lo scontro con Trump perché crede che alla fine vincerà è un grande azzardo è un grandissimo azzardo l'idea della riproposizione del match di 4 anni fa in realtà vede opporsi due candidati Biden da una parte e Trump e entrambi molto deboli nessuno dei due è sopra il 50% dell'opinione degli americani gli americani vorrebbero un altro candidato bisogna vedere se il sistema elettorale consente di esprimere candidati diversi faccio un'altra domanda però allora perché i repubblicani se c'è una debolezza non si come dire non puntano a smarcarsi da Trump perché non possono non ce la fanno quindi è una ragione semplicissima vede Trump ha plasmato il partito repubblicano la cosa classica di tutto cioè il ritiro di Ron De Santis Ron De Santis in questa campagna per le primarie in questi primarie è stato massacrato da Trump si è ritirato massacrato con insulti anche personali si è ritirato e ha garantito il suo appoggio a Trump non a Lali e la dice lunga sull'egemonia politico-culturale che Trump ha conquistato dentro il partito repubblicano e che ha mantenuto in tutti questi quattro anni nonostante il campidoglio perché vede la cosa drammatica per gli Stati Uniti è che non siamo nel 2016 quando il successo di Trump fu considerato una sorpresa drammatica tutti pensavano che avrebbe vinto Hillary Clinton qui siamo di fronte ad una scelta di un populismo radicale che ha vinto le prime elezioni a sorpresa poi le ha perse e forse rivince nuovamente le elezioni questo è qualcosa di traumatico per il sistema democratico degli interi Stati Uniti aggiungo anche che Biden nel momento in cui dice sarà Trump il candidato e quindi è una sfida drammatica per la democrazia da un lato fa un ragionamento come diceva giustamente il direttore prodomo sua perché lui è anche sfidato dentro il partito democratico perché le voci che si rincorrono sono quelle che appunto un signore di 82 anni non è graditissimo al partito democratico che invece vorrebbe sostituirlo con la moglie di Obama o con un candidato più giovane e stiamo parlando di un dato politicamente rilevantissimo per il mondo e cioè la più grande democrazia del pianeta comunque finisca può manifestare i segni di una stanchezza e di una crisi hanno fatto un sondaggio negli Stati Uniti il 50% del popolo americano ritiene che gli Stati Uniti abbiano troppo aiutato l'Ucraina 50% il 40% del popolo americano ritiene che gli Stati Uniti stanno troppo aiutando Israele questo è il sentimento profondo del paese a cui Trump si rivolge a cui Trump si rivolge ma diciamo molti osservatori sottolineano come anche se dovesse vincere Biden c'è il rischio di un'America come dire poco poco disponibile o comunque meno disponibile un po' in ritirata rispetto al scenario europeo e rispetto anche al Medio Oriente secondo lei non c'è dubbio a culo tuttavia con Biden sarebbe uno spostamento è un problema di dosaggio sarebbe uno spostamento soft con Trump sarebbe uno spostamento traumatico vede nelle settimane scorse negli Stati Uniti si è votata una legge che impedisce al Presidente e agli Stati Uniti di ritrarsi dalle alleanze internazionali prima fra tutte le Nato e stabilisce che quel potere non è soltanto nelle mani del Presidente ma nelle mani anche del Congresso come dire ci si prepara lei comprende cosa vuol dire questo noi potremmo trovarci di fronte al Paese che ha fondato e ha voluto fortissimamente la Nato che a un certo punto dice che la Nato è inutile comprende lo shock per tutto quello avvenuto in questi anni per quello che avete detto moltissime volte in questa trasmissione la Nato è fondamentale con l'aggressione dell'Ucraina la Nato è stata rilanciata a un certo punto può succedere che gli Stati Uniti si ritirino dalla Nato veniamo agli scenari diciamo ai due teatri di guerra di cui parliamo in questi giorni allora intanto se vede il rischio di escalation in questo nel Mediterraneo e poi la missione mi sembra che la missione nel Mar Rosso sia comunque abbia legge da europea ci sarà un passaggio parlamentare anche se Meloni aveva detto di no ed è un pezzo di questo discorso che ci sia un consenso più ampio su questi passaggi così delicati lo considero molto positivo dovrebbe mi sembra che si metta così però l'escalation secondo me il rischio c'è di cose che esplode voglio essere preciso l'escalation già c'è c'è un rischio di una guerra regionale che può avvenire in maniera del tutto pretentenzionale cioè tutti i protagonisti che stanno vivendo in questo momento l'escalation basta soltanto pensare al teatro di Gaza basta pensare all'Iran che attacca il Pakistan il Pakistan che risponde all'Iran l'Iran che attacca l'Iraq nessuno di questi protagonisti vuole veramente una guerra regionale ma può succedere che la situazione sfugga di mano e vede qualche anno fa uno storico inglese Christopher Clarke ha scritto un libro bellissimo sullo scoppio della prima guerra mondiale intitolato The Sleepwalkers i sonnamboli e ha spiegato dettagliatamente con la scienza di uno storico tipicamente anglosastronico con i fatti come l'Europa si è precipitata nella prima guerra mondiale senza nemmeno sapere perché nessuno dei protagonisti dal Kaiser al presidente francese al primo ministro inglese volevano la prima guerra mondiale eppure si è precipitato l'escalation c'è il rischio di una crisi regionale purtroppo rimane molto alto non perché qualcuno la vuole ma perché a un certo punto succede un evento che sfugge di mano e lì c'è un punto delicatissimo che riguarda la leadership di Israele io sono non pro Israele super pro Israele diciamo da questo punto di vista e tuttavia non deve sfuggire a nessuno che un grande paese un grande popolo come quello israeliano non può consentire che in questo momento il commander in chief di quel popolo e cioè Benjamin Netanyahu sia il primo interessato al prolungamento della guerra c'è qualcosa che non funziona se il commander in chief che deve guidare la guerra tra virgolette possibilmente anche vincera ha soltanto l'ambizione o soltanto il retropensiero di farla proseguire e c'è qualcosa che può sfuggire letteralmente di mano questo incominciano a capirlo anche gli israeliani e proprio ieri è stato fatto un sondaggio in cui il 50% il 51% del popolo israeliano incomincia a dire che accanto all'impegno militare c'è bisogno di una soluzione politica e i due stati significano una cosa semplicissima lo stato palestinese e la sicurezza dello stato italiano significano una cosa fondamentale ridare un ruolo ai paesi arabi moderati se invece si negano i due stati si dà un ruolo soltanto a Damas Maurizio Molinari mi sembra che sia crescente questa pressione e questo clima citava anche dei dati Marco Minniti le chiedo se effettivamente c'è qualcosa che fa pensare che si possa cambiare ci possa essere un cambio nel ruolo di Netanyahu una crisi di governo una cosa del genere cominciamo dall'escalation non c'è dubbio che tre giorni dopo il 7 ottobre i primi attacchi degli uti contro Israele che sono stati fermati dalle navi americane nel Mar Rosso hanno indicato da subito la volontà dell'Iran di trasformare la guerra di Hamas contro Israele in una guerra regionale da quel momento gli uti sono stato lo strumento prescelto per trasformare un conflitto locale in un conflitto più ampio assieme al fronte degli uti l'Iran ha aperto anche il fronte contro le truppe americane in Siria e in Iraq fino a ieri sono stati 106 gli attacchi degli Hezbollah e dei Pasdaran contro le basi americane quindi questo è uno schema di guerra regionale che l'Iran vuole l'attacco di Hamas contro Israele è servito agli interessi iraniani per fermare il riavvicinimento fra Israele e Arabia Saudita e l'Iran continua in questa strategia per creare uno schema di guerra nel Medio Oriente e impedire la volontà dei Sauditi di riappacificarsi con Israele e di far nascere lo Stato palestinese non a caso noi vediamo che ogni giorno i Sauditi continuano a dire che il negoziato con gli israeliani è sul tavolo queste sono le due strategie Medio Oriente c'è una strategia di pace che passa attraverso il legame fra Arabia Saudita Israele e palestinesi e c'è una strategia di guerra che è guidata dall'Iran in questo schema Israele è nel mezzo e ha due partite una partita militare contro Hamas e contro l'Iran e una partita politica all'interno sulla sorte di Netanyahu può Israele cambiare premier nel bel mezzo di un conflitto? Certo la Gran Bretagna l'ha fatto dopo Dunkirk liquidando Chamberlain e mettendo Churchill quindi una democrazia può durante un conflitto cambiare premier Ma guardando all'oggi tu che sei un osservatore sta maturando questo scenario o no? Diciamo che la difficoltà è che la persona che potrebbe sostituire nella testa degli israeliani Netanyahu è Gantz Gantz fa parte del gabinetto di guerra se Gantz sostituisse Netanyahu senza passare per le elezioni sarebbe possibile quindi dovrebbe essere Likud a liberarsi di Netanyahu dare il proprio appoggio a Gantz e creare senza passare per le elezioni una nuova maggioranza in Parlamento e trasformare Gantz che è già nel gabinetto di guerra in nuovo premier questa è l'unica strada per farla passare per le elezioni è molto più complesso è certo possibile ma è una strada più lunga questo scenario dobbiamo tenere d'occhio queste mosse qui e potrebbero Likud contro Netanyahu e questo potrebbe tecnicamente ma politicamente ancora questa condizione no però è vero che qua la rivolta delle famiglie contro il governo crea una situazione politica dove pone l'interrogativo agli eletti dell'Ikud è una pressione sull'Ikud che può agire allora ci dobbiamo veramente fermare per la pubblicità restate con noi vedo già Antonello Caporale Alessandro Campi ringrazio Marco Menniti resta con noi direttore di Repubblica pubblicità Allora di nuovo in diretta ci hanno raggiunto Andrea Cangiri fondazione Einaudi Cinzia Asciuto che è condirettrice della rivista Micromega facciamo vedere che è in uscita domani quindi possiamo in anteprima far vedere la copertina eccola qui e ho annunciato prima della pubblicità Alessandro Campi politologo Università di Perugia Antonello Caporale Il Fatto Quotidiano ed è rimasto con noi direttore di Repubblica Maurizio Molinari che avete ascoltato se eravate con noi nella prima parte della trasmissione allora vorrei tornare sull'autonomia sulle scene che abbiamo anche fatto vedere le proteste le reazioni dell'opposizione al primo passaggio dell'autonomia differenziata allora intanto c'è un rischio secessione un rischio per il sud cinzi asciuto questa diventerà e questo diciamo il sud diventa la bandiera dell'opposizione ma a me sembra sembra proprio di sì se il sud diventa la bandiera dell'opposizione non lo so certamente rappresenta questa legge rappresenta una gravissima spaccatura nel paese una legge di questo tipo in un contesto di gravissime disuguaglianze che già esistono non fa che rafforzarle noi proprio sul numero di micromega che esce domani abbiamo un contributo di Giovanni Azzariti che spiega che è verissimo che la nostra costituzione prevede il regionalismo ma un regionalismo solidale un regionalismo basato sui diritti a me fa molta impressione soprattutto quando penso a questo concetto dei livelli essenziali di prestazioni cioè l'idea che di media ci accontentiamo di un livello base poi le eccellenze le riserviamo a chi può a chi ha le risorse per farlo ma noi dovremmo aspirare a garantire a tutti i cittadini italiani l'eccellenza quindi mi sembra proprio che sia capovolta e mi sembra anche che sia di rivedere a livello nazionale quel ragionamento che spesso si fa a livello europeo in cui vengono criticati i paesi cosiddetti risparmiatori frugali che spesso se la prendono con i paesi del sud che invece sarebbero spendacioni le cicale le formiche quella stessa retorica che noi giustamente critichiamo a livello europeo perché la situazione è ben più complessa della semplicistica riduzione cicale e formiche la replichiamo in Italia diciamo accusando di fatto le regioni del sud che invece devono far fronte a una situazione socio-economica drammatica di sostanzialmente non essere capaci di gestire le proprie risorse e quindi le regioni del nord dico almeno fateci fare bene il nostro lavoro al nord e il cosiddetto turismo sanitario un'espressione orribile perché di turistico non ha assolutamente niente l'idea che la gente sia costretta a spostarsi per curarsi andrà sicuramente a rinforzarsi questo fenomeno drammatico Alessandro Campi vedo già che scuote la testa Alessandro Campi su questo però volevo chiedere intanto perché lo ha detto in realtà il capogruppo della Lega Romeo ha detto serve a bilanciare il premierato controbilanciare il premierato Allora innanzitutto un movimento della testa non è un segnale di dissenso è semplicemente spostarsi sulla poltrona aggiustare l'inquadratura no detto questo la Costituzione italiana non prevede il regionalismo la Costituzione italiana per come è stata modificata prevede l'autonomia differenziata in senso proprio così come i livelli essenziali di prestazioni sono a loro volta un dettato costituzionale non solo una previsione costituzionale un'imposizione non semplicemente una formula politica generica quindi dovremmo partire da questo dato da una scelta che è stata fatta probabilmente in maniera irresponsabile dalla classe politica italiana di modificare la nostra Costituzione rendendo possibile il percorso che si è avviato ieri il fatto che venga presentata come una legge procedurale sta a significare esattamente questo si sta dando attuazione a quello che la Costituzione prevede con una formula anche piuttosto complicata e trattativa tra Stato e Regione naturalmente quando si applica qualcosa si può fare bene o si può fare male allora il mio auspicio è che si faccia bene questo però presuppone una cosa che l'opposizione non scelga la via dell'Aventino oppure della contestazione tanto spettacolare quanto poco credibile e strumentale poco credibile perché la sinistra italiana fino ad adesso non si è caratterizzata per un sentimento nazional patriottico tale da doversi mettere adesso a sventolare in pubblico il tricolore o a cantare i fratelli d'Italia strumentale perché se usi il tricolore e l'inno nazionale contro una parte politica in qualche maniera tradisci lo spirito della bandiera e dell'inno nazionale che in realtà dovrebbero essere simboli e strumenti di unificazione e non di divisione è partito un itero e parlamentare che sarà lungo io spero che si provi quantomeno a fare una negoziazione cioè a fare in modo che questa autonomia differenziata non risulti penalizzante per le regioni meridionali e ripeto e si faccia nell'interesse del paese avendo in testa una cosa che il quadro che prima veniva descritto cioè di un paese molto diviso al suo interno è quello che già abbiamo cioè è il frutto di 50-60 anni di politiche centralistiche di un regionalismo probabilmente malattuato di spericazioni storico-sociali che abbiamo ereditato quindi bisogna fare l'astronomia differenziata per cercare di sanare queste differenze ricreare per esempio un meccanismo competitivo che consente anche alle regioni meridionali di alzare la loro capacità di prestazione questo ragionamento è l'esatto pandan di quello che si deve fare secondo me per quanto concerne il premierato anche lì l'opposizione rispetto ad una scelta che è fatta la maggioranza deve decidere se andare all'attacco frontale e denunciare semplicemente quella proposta come un rischio di deriva autoritaria oppure andare a vedere le carte come si dice ci sono componenti della sinistra che stanno suggerendo questo il premierato in sé non è una proposta una formula di tipo autoritario anche lì il premierato lo puoi fare bene o lo puoi fare male allora mi aspetto che ci sia una dialettica parlamentare seria su entrambi gli aspetti che peraltro si tengono insieme quindi sposta sposta un po' sul il premierato è autonomia differenziata chiaro non è necessariamente uno scambio politico è anche una necessità di sistema tenerle insieme volevo andare da Maurizio Molinari perché in realtà abbiamo visto per ora un attacco frontale sicuramente che è quello che ha rivolto Giorgia Meloni da Quarta Repubblica a Repubblica al Quotidiano Repubblica tu con un editoriale ieri hai replicato in modo duro dicendo una cosa sono gli editori l'attacco era un attacco a un editoriale che avevate pubblicato contro le privatizzazioni come svendita diciamo di patrimoni insomma di pezzi di aziende che servono per atto sono i 20 miliardi di privatizzazioni quindi partiva da lì e diceva non mi faccio a detto Meloni non mi faccio dare lezioni di italianità riferendosi agli editori da famiglia Elkan Stellantis come dire visto che loro hanno era la Fiat hanno preso e hanno portato hanno svenduto ai francesi ecco hai sentito questo attacco e hai risposto insomma con una certa durezza ma qualcuno dice però comunque ve ne occupate poco di Stellantis oppure come dicono giornali della destra però Repubblica attaccava Berlusconi i giornali che dipendevano da Berlusconi dicendo fate gli interessi di Berlusconi ma la democrazia è fatta di regole quando un presidente del consiglio si trova delle domande anche le più scomode io credo che sia giusto che lei risponda la domanda che noi ponevamo era quella delle privatizzazioni la decisione di vendere parte delle partecipate pubbliche per ottenere 20 miliardi di euro e lei poteva dire di sì e poteva dire di no fra le altre cose il suo ministro Urso ieri ha ammesso la volontà di vendere il 13% di poste anziché rispondere all'inchiesta fatta da Repubblica lei ha scelto di delegittimare Repubblica schiacciandola sugli interessi privati dell'editore di Repubblica e questa è una questione di merito profonda perché delegittimare un qualsiasi protagonista del mondo dell'informazione che sia Report che sia Lilly Gruber o che sia Repubblica significa violare l'articolo 21 della Costituzione o delegittimarlo o svilirlo che prevede la libertà di espressione da parte anche dei mezzi di informazione poi si può discutere di tutto ogni obiezione è legittima ma attenzione al sistema delle regole perché in una democrazia il rispetto della libertà di informazione è uno degli architari della nostra vita pubblica poi ogni obiezione è legittima si può discutere assolutamente tutto ma se dipende anche da chi la fa cioè se la fa il capo del governo il capo del governo deve essere il primo garante della Costituzione e della libertà di informazione poi il capo del governo può esprimere delle critiche a Repubblica o a altri mezzi di informazione che possono essere discusse legittime ma se delegittima un singolo mezzo di informazione sulla base di interessi privati viola le regole basilari del nostro vivere comune Andrea Cangini sei stato direttore di giornali sei un giornalista come valuti senza altro vero che in un mondo ideale bisognerebbe stare al merito delle questioni e non travolgere l'interlocutore gli effetti di legittimandolo quindi bastava rispondere sul merito della questione è anche vero che questo succede quando gli editori non sono puri in Italia gli editori puri sono pochi Corriere la Sera quotidiano nazionale forse lì ci fermiamo più o meno e quindi ci si espone fisiologicamente a critiche che vanno oltre il merito delle questioni io credo che avesse ragione riprenderei il discorso che accennava Campi cioè c'è una tendenza a drammatizzare da parte di tutto il sistema mediatico chi più chi meno che innesca poi reazioni esorbitanti anche dalla parte politica se tu dici che la democrazia è in pericolo apri il giornale dicendo la democrazia è in pericolo poi il giorno dopo la apri parlando d'altro se la democrazia è in pericolo non puoi che parlare di questo sistematicamente se su un emendamento come quello Costa che è discutibile come tutte le cose ma non è una legge bavaglio tu fai una campagna dicendo c'è la volontà di annichilire la libertà di stampa che è una forzatura obiettivamente ti esponi a forzature uguali e contrari insomma il dibattito pubblico è drogato sistematicamente anche l'autonomia differenziata centrosinistra protesta violentemente io non sono affatto a favore dell'autonomia però è possibile è stato possibile per la maggioranza di destracentro mettere mano a norme essenziali della Costituzione per via ordinaria perché nel 2001 il centrosinistra ha approvato come un pugno di voti di maggioranza a fine legislatura la riforma del titolo quinto della Costituzione consentendo che quindi si intervenisse su 23 materie delegate spostandone la competenza dallo Stato alle regioni quindi è una cosa legittimata dal centrosinistra che oggi grida alla spaccatura del paese non torna è esorbitante lo che abbiamo Antonello Caporale vengo da te sulla questione Repubblica attacchi ai giornali tra l'altro conosci quel giornale molto da vicino hai lavorato lì per tanti anni da tanti anni se hai fatto quotidiano ma insomma guarda io dico due cose la prima è che forse questo attacco deve farci capire a noi giornalisti di ritrovare un po' l'orgoglio di noi stessi perché è discutibilissima la proprietà transitiva che la Presidente del Consiglio ha utilizzato per attaccare Repubblica e giornalisti è come se noi dicessimo alla Meloni ma guarda che il fascismo ha accompagnato gli ebrei sui carri bestiame delle ferrovie e le ha mandati a gasare per ordine dei nazisti cosa direbbe la Meloni direbbe io che vergogna è questa quindi ha tutto il diritto di contestare come il mio giornale fa tra l'altro i gruppi industriali che svendono l'Italia e svendono le loro aziende e fanno affari all'estero ma non ha il diritto di mortificare i giornalisti i quali fanno anzi facciamo secondo me poco il nostro dovere io mi stupisco delle parole di Cangini perché io invece vedo l'opposto una sorta di sulfurea di odore sulfuroso di assoluta acquiescenza alla presidente del consiglio che si trova e si dichiara con sua sorella ultimamente l'ha dichiarato ci vogliono far perdere ci vogliono far venire una crisi di nervi far saltare i nervi dice Arianna meloni ma dove ma quando ma cosa è tutto uno zuccherino è tutta una una presidente del consiglio leggo esattamente che pone il cognato ministro e la sorella a capo del partito e dice pubblicamente potevo mettere mia sorella in una partecipata di stato invece l'ho messa a lavorare nel partito mio nel partito mio un'altra volta in un altro mondo sarebbe stata come dire crocifissa davanti a quella idea lei col 25% degli elettori e dei voti ha la proprietà dell'Italia è la proprietà assoluta propone il premierato quando nel momento in cui non c'è governo più forte di tutti maggioranza più coesa di tutti anzi camerieri i suoi ascari i suoi alleati e ci dice no e assume come verità una bugia dice ma come la mia riforma garantisce inalterati i poteri del presidente della repubblica e noi assumiamo come vera questa bugia noi giornalisti di destra o di sinistra questo non dovrebbe accadere sull'autonomia differenziata aspetta sull'autonomia differenziata ti devo interrompere perché se no ci sfumano come si dice sono in ritardissimo per la pubblicità poi ti ridò la parola su questo pubblicità saluto Maurizio Molinari di nuovo in diretta allora Antonello Caporale ti avevo tolto la parola sull'autonomia differenziata invece naturalmente la tua opinione ci interessa e quindi e anche però ti preciso già la domanda intanto dando qualche elemento di agenzia perché c'è il grande entusiasmo del presidente della regione Veneto Zaia che dice è una tappa storica per chi ha a cuore il paese era una sua battaglia e quindi forse questo si può leggere anche politicamente nelle dialettiche interne alla Lega e poi c'è il capogruppo della Lega Romeo che dice che è una dove è finito Romeo eccolo dall'opposizione c'è una retorica ideologica critica di una classe politica immatura che continua con questa retorica ideologica Antonello la Lega si fa scudo come tutto il centro-destra come sempre accade e questo è il più grande problema della democrazia italiana sugli errori questi veri e sono certi e sicuri con i quali il centro-sinistra ha creduto di arginare le proteste le contestazioni il conflitto politico ed è vero che l'autonomia differenziata lo diceva Campi è una risorsa messa a disposizione della Lega dal centro-sinistra dal PD che con un colpo di mano quello vero altrettanto vero e giusto che noi lo ricordiamo cambiò forzò mutilò la Costituzione offrendo questa campagna questa nuova campagna dell'autonomia differenziata ed è anche vero secondo elemento che dobbiamo chiarire che accanto ai governatori della Lega non a Salvini ai governatori della Lega in quel caso a Maroni e al sempre eterno Zaia si è messo Bonaccini con l'Emilia Romagna sono tre le regioni che hanno aperto il fronte con il PD che ancora una volta ha coperto l'avanzata della Lega però ricordiamo i fatti la Lombardia che è la culla del leghismo non è riuscita Bobo Maroni quando chiese con un referendum di proporre di sostenere l'autonomia differenziata ebbe come risposta dai Lombardi l'assoluta astinenza l'astenzione dal voto se ti ricordi il 35% dei votanti degli elettori andò a votare gli altri stettero a casa zero porto zero ora l'autonomia differenziata è il sistema enorme per cui 23 materie e 500 funzioni sono trasferite dal governo alle regioni in ragione di cosa però quando mai uno e anche qui è colpa nostra le regioni dove hanno brillato dove noi possiamo dire nella storia del regionalismo italiano ah ma guarda che bello avere le regioni tre erano gli elementi fondamentali delle loro competenze la sanità la gestione dei fondi europei la formazione professionale Alessandra che tu ricordi una di esse ha avuto la dignità di essere premiata o la pandemia dobbiamo ricordarci di cosa furono le regioni nella pandemia di chi salvò il culetto alle regioni nella pandemia e noi alla sanità che cosa diciamo cosa diciamo alla Calabria che ha emergency ricordiamoci o abbiamo già dimenticato cosa era e cosa è stata la Italia ora che cosa dico dico che avanzando di questo passo noi troveremo che l'unica cosa che ci salverà a Vicenza a Venezia noi di Catanzaro di Napoli di Catania sarà l'inno di Mameli e null'altro perché già adesso sono due Italie e se ne saranno 27 e terza cosa ricordiamoci della moralità della Lega la Lega ha bruciato il secessionismo perché è stato sconfitto il federalismo non ha avuto strada e alla terza cosa che ha fatto Salvini il nostro Salvini prima ha bruciato utilizzando parole grevi ricordiamo il Vesuvio la Puzza eccetera bruciando ogni mala parola sul sud poi prima il nord poi prima l'Italia adesso è arroccato davanti alla condizione di essere come dire lui l'ascaro e lui come dire il servitore del potere forte leghista vorrei stare su questo tema della Lega perché ci interessa perché naturalmente l'interlocuzione all'interno della maggioranza i scontri della maggioranza ce ne siamo occupati su tanti fronti e tra l'altro lo abbiamo detto nella prima parte della trasmissione rilanciando un pezzo proprio del fatto di Giacomo Salvini che c'è un ordine del giorno la Lega ha presentato un ordine del giorno molto tiepito per usare un eufemismo diciamo quasi riluttante sull'invio delle armi a Kiev e quindi insomma con delle parole dei distinguo molto forti rispetto alla coalizione anche se non dice che sono contrari ma insomma però volevo andare ad Alessandro Campi proprio su questo perché Romeo come dicevo ha parlato esplicitamente di controbilanciare anche di un patto che è stato rispettato quindi come un segno di unità a questo passaggio anche in vista del premierato quindi non è una questione di baratto ma proprio di un patto come rispettato e volevo chiederti se si vede nella Lega qualche movimento diciamo che poi in base al risultato elettorale poi potrebbe magari creare qualche problema a Salvini perché Salvini effettivamente sull'autonomia non era proprio la sua battaglia inizialmente era più una battaglia del Veneto una battaglia di Calderoli adesso è utile è funzionale una bandiera alla quale tiene è una metamorfosi dalla Lega i vari passaggi li ha riassunti Antonello Caporale della Lega con la sua bandiera nazionalista nell'epoca Salvini mi hai anticipato sul paradosso politico che volevo appunto enunciare l'autonomia differenziata appunto paradossalmente non è una vittoria di Salvini e semmai è una vittoria dei governatori del Nord la strategia di Salvini per alcuni anni è stata totalmente diversa il suo investimento politico strategico è stata nella trasformazione della Lega già federalista già secessionista già sindacato territoriale del Nord in un partito nazionale qualcuno ha detto un partito di destra radicale comunque un partito che avesse una presenza sul territorio capillare diffusa tant'è che appunto ci fu un grande investimento anche nelle regioni del Sud non c'erano gruppi dirigenti radicati e quindi ci fu una specie anche di assalto alla dirigenza la Lega imbarcò personale politico anche diciamo di seconda terza fila pur di darsi un radicamento territoriale peraltro sostenuto anche da un voto molto molto massiccio quello era l'investimento di Salvini questa posizione è la posizione invece dei governatori del Nord quindi diciamo sul piatto della bilancia adesso è chiaro che Salvini in quanto segretario non potrà che cavalcare l'onda però diciamo poi nella dialettica interna che già è molto forte in quel partito questo è un punto a favore molto sostanzioso per Zaia ma in generale per la Lega rimasta un po' quella che è stata nel passato non soltanto la Lega secessionista ma la Lega degli amministratori perché ricordiamo poi c'è anche questa componente meno ideologica e più pragmatica la Lega dialogante con i settori produttivi quindi attenti anche a descriverla come un'armata di anti italiani c'è stato quello ma c'è stato anche un partito che è stato molto capace di gestire pragmaticamente le ricchezze sul territorio quindi da questo punto di vista Salvini dovrà stare un po' attento per rivendicare questa come una vittoria Cinzia Asciuto scusami posso fare volevo restare su questo momento poi ci torniamo volevo chiedere a Cinzia Asciuto se però questo diciamo questo patto rispettato stabilizza la coalizione di centrodestra o se appunto il segnale che arriva da un ordine del giorno della Lega come quello di oggi significa che in ogni caso una competizione resta io sono sempre molto sorpresa quando noi tentiamo sempre di capire le dinamiche interne c'è una dialettica interna in tutti i partiti poi con l'avvicinarsi delle europee da un lato delle regioni dall'altro queste dialettiche interne esplodono che la Lega non stia dalla parte dell'Ucraina è chiaro e lampante da almeno due anni cioè da quando c'è stata l'invasione ma evidentemente ha molto più a cuore stare al governo che la guerra quindi insomma un ordine del giorno ma poi quando si passa ai fatti concreti vota quello che è interessante anche del discorso di Campi rispetto alla dialettica interna fra governatori e Salvini è anche in relazione al ruolo di Zaia e all'ipotesi del terzo mandato di cui si parla per cui in questo patto potrebbe diventare triangolare e in qualche maniera come dire se Salvini riuscisse ad avere la legge sulla possibilità del terzo mandato così Zaia è contento cioè l'autonomia differenziata rimane in Veneto e Salvini è salvo sull'autonomia differenziata una piccolissima una piccolissima precisazione quando all'inizio dicevo che lo spirito costituzionale quarto sarebbe sì certo però diciamo con il terzo potrebbe perché la legge diciamo viene calcolata se si riproponesse candidato al quarto mandato è per la verità dei fatti è tre volte sì sì ma non è diciamo è la verità dei fatti ma il motivo per cui una norma sul terzo mandato glielo consente è perché viene calcolato da quando si fa la ratifica del piccolissima precisazione quando all'inizio mi riferivo allo spirito costituzionale che è contrario a questo tipo di autonomia differenziata mi riferivo allo spirito originario della Costituzione non quello post-riforma del titolo quinto che giustamente ha posto le basi per questo disastro la coalizione pacificata Salvini con questo patto no c'è nulla di pacificato e nulla di pacificabile insomma la competizione tra Salvini e Meloni era precedente la nascita di questo governo sta continuando con tutta evidenza rendendo traballante l'esecutivo e mi pare che Meloni non voglia concedere il terzo mandato mi sembra proprio di no per due ragioni lasciare libero Zaia di muoversi diciamo ai margini della segreteria politica della Lega e mi pare di capire che rivendichi il diritto di Fratelli d'Italia di insidiare il primato della Lega in Veneto che è la regione cuore diciamo del centro-destra ma anche del paese dal punto di vista economico il progetto politico di Salvini è fallito evidentemente lui va a fare un partito nazionale oltre che nazionalista non funziona più così non ha più i voti al sud non ha più la classe dirigente a sud e quindi sta rinculando nella retorica tradizionale della Lega localistica e nordista ma non per questo ha rinunciato a tutte le armi nebagogiche che lo hanno caratterizzato da sempre la posizione sull'Ucraina è una di queste ed è molto scivolosa perché più passa il tempo più i sondaggi ci dicono che già una componente importante di opinione pubblica all'inizio del conflitto in Ucraina era già contraria non c'è stata un'opera di persuasione da parte di questo governo della lenza atlantica è un problema che riguarda tutto l'Occidente probabilmente non solo l'Italia ma più si allarga questa forbice ed è destinata ad allargarsi più sarà difficile per i governi democratici occidentali tenere ferma la linea secondo me sacrosanta di sostegno al popolo ucraino Antonello Caporale ti faccio una domanda dalla quale dovresti dare una risposta rapida perché abbiamo di nuovo un vincolo pubblicitario però ci tengo a farla qui e cioè il Sud il tema dell'autonomia differenziata che abbiamo visto imbracciato con forza dell'Ischlein addirittura quasi evocando referendum un possibile referendum se fosse approvata ricordiamola è un iter molto lungo ci sono tante cose però questo è solo un primo passaggio però questo dà anche spazio al governatore della Campania De Luca a Michele Emiliano in Puglia per come dire acquisire maggiore forza dentro il partito democratico fare un qualcosa come hai notato sia De Luca che Emiliano si tengono defilatissimi da questo tema dell'autonomia differenziata che anzi aiuta loro a sovvertire a promuovere le nuove sattrapie perché i governatori autonomamente scelgono quando andare via e quanto stare il limite dei due mandati era un limite come dire di igiene democratica di trasparenza era il limite per cui ciascun potere dovrebbe avere deve avere un termine una funzione e anche un respiro democratico e loro autonomamente ciascuno per suo conto ha iniziato Zaia poi ha proseguito De Luca poi si è accodato Emiliano e alla fine anche Bonaccini come noti il sistema è un sistema alternativo al portiere centrale che gode del primo quindi tu non li vedresti non li vedresti in prima fila in una battaglia ma assolutamente loro hanno una borsa però devono difendere il sud cioè attaccare loro difendono il loro potere e il loro potere è gestito attraverso questo grandissimo portafoglio unico al mondo che è la sanità io vi vorrei ricordare solo una cosa per cui dovremmo vergognarci delle regioni l'Istituto Pascale di Napoli che è l'Istituto per Tumori è un'eccellenza della medicina italiana da nove anni non ha il primario del reparto di chirurgia senologica avete capito bene nove anni perché non si riesce a fare il concorso adesso lo stanno svolgendo questa è la vergogna questo è il potere residuale delle regioni questa è la satrapia ci dobbiamo fermare pubblicità allora di nuovo in diretta la campagna elettorale che abbiamo visto mi pare sia iniziata Andrea Cangini a questo punto abbiamo visto l'intervista Giorgia Meloni a Quarta Repubblica Elislein che ha fatto il suo discorso nel convento l'ex convento di Gubbio discorso fugace diciamo discorso fugace ma insomma quello però è rimbalzato e insomma tanti segnali ci dicono questo anche il patto quindi il passaggio dell'autonomia differenziata seguirà quello del premierato però la campagna elettorale dicevamo non è queste elezioni europee sono un problema anche fuori dall'Italia vorrei farvi vedere le immagini se la regia può mandarle dalla Germania due giorni fa c'è stata una grandissima manifestazione contro il neonazismo e contro alcune formazioni ecco le stiamo vedendo in particolare la FD che è il partito di destra estrema che c'è asciuto vive in Germania e che è un partito che ha dei sondaggi incredibilmente alti quindi questa manifestazione ecco le immagini sono molto importanti e forti ma queste manifestazioni sono state tante sono state in più di 100 città tedesche e in totale sono scese in piazza circa un milione e mezzo c'è chi dice due milioni di persone addirittura in alcune città a Monaco per esempio la polizia ha dovuto interrompere la manifestazione perché si aspettavano molte meno persone quindi non avevano preparato gli apparati di sicurezza necessari a garantire appunto la sicurezza con 80 100 200 mila persone e queste manifestazioni sono state innescate da una preoccupante incontro segreto che c'è stato a novembre e di cui si è saputo invece proprio nelle settimane scorse nei giorni scorsi che era un ritrovo di estremisti di destra europei organizzato in particolare dal movimento identitario austriaco a cui hanno partecipato alcuni esponenti della FD che è questo partito che ormai sta stabilmente nei parlamenti sia regionali sia quello nazionale che nei sondaggi è diventato il secondo partito a livello nazionale è il primo partito in alcuni lender in particolare quelli orientali è molto radicato in alcune regioni dell'est nelle regioni occidentali finora non aveva dato grandi segnali di vitalità e invece ultimamente è esploso io vivo in Assia a Francoforte e nelle ultime elezioni regionali è diventato secondo partito poteva quindi tranquillamente entrare nella coalizione di governo la CDU era il primo partito c'è una specie di accordo non scritto tra le forze politiche che rifiutano qualunque alleanza con la FD questo è l'unico motivo per cui la FD non è in nessun governo in questo momento regionale o nazionale questo incontro segreto in cui si è parlato addirittura di un programma di quella che viene chiamata la remigrazione cioè di fatto la deportazione non solo di immigrati ma addirittura di cittadini tedeschi quindi persone con cittadinanza tedesca con una retroterra di immigrazione come si dice in Germania è stato discusso questo programma ha preoccupato enormemente la Germania perché c'è un ritorno dell'estremismo di destra veramente preoccupante e queste manifestazioni sono la dimostrazione che la società civile tedesca però è in allerta rispetto a questo pericolo e anche che c'è comunque un clima di partecipazione che c'è un clima di partecipazione dovuto innescato da questa preoccupazione perché non se ne vedevano da tempo di manifestazioni così partecipate in Germania e così unite anche mi permetto non sono state organizzate da partiti sono state sono partite a me sono arrivate due tre locandine spontanee da persone magari piccole associazioni della società civile che si sono ritrovate unite in piazza contro il pericolo del ritorno dell'estrema destra Alessandro Campi AFD è il partito che fa parte del gruppo parlamentare il Parlamento Europeo della Lega dove è anche la Lega di Salvini è stato anche qui un tema di scontro perché Salvini ha invitato a una manifestazione a Firenze a un'iniziativa di partiti in vista dell'europea anche AFD Meloni ha tenuto le distanze finora mentre ha provato così a riochieggiare a Marine Le Pen che anche Marine Le Pen rassemblea nazionale fa parte dello stesso diciamo del gruppo parlamentare di Salvini e questo allarme destra come lo vedi visto da qui e nelle dinamiche italiane se c'è un riflesso se lo vedi oggi vado per paradossi nel senso che questa estrema destra è uno dei lasciti avvenenati del comunismo dell'est perché non è un caso che sia nata e cresciuta in quella parte di Germania diciamo diseducata alla democrazia per lunghi decenni è più che una battuta serve per capire anche la genesi di questo di questo fenomeno che appunto viene da oriente non a caso ma a parte a parte questo ma in Germania c'è grande allarme e secondo me anche giustificato segnalo che per esempio è intervenuta la Corte Costituzionale tedesca credo proprio un paio di giorni fa per sostanzialmente togliere qualunque tipo di finanziamento pubblico nel caso di specie ad un piccolo gruppo d'estrema destra che si chiama Heimat che è classificato diciamo in senso proprio come un gruppo neonazista e però si parla in Germania della possibilità di estendere questa misura cioè impedire che possano avere finanziamenti pubblici anche da Alternative for Deutschland che dopo i recenti successi elettorali credo abbia incassato qualcosa come 10 milioni di euro di rimborsi elettorali di finanziamenti politici quindi il problema è sicuramente molto grande in Italia e in Germania lo è anche di riflessio in Europa perché insomma la destra presenta molte facce questa è una destra con la quale bisognerebbe evitare di avere rapporti di qualunque tipo se non altro per quello che evoca di sinistro nel senso che parliamo della Germania parliamo dello spettro del nazionalsocialismo parliamo appunto di un linguaggio che richiama le deportazioni gli allontanamenti forzati di popolazione quindi ci sarebbe a capire dal punto di vista dei Salvini che abbiamo appena detto essere tornato diciamo federalista e dopo essere stato nazionalista quale convenienza abbia a legarsi con un gruppo del genere per capirci mentre in Francia Jean-Marie Le Pen che veniva da una storia anche essa diciamo ideologicamente piuttosto impegnativa Marine Le Pen pardon si è posto il problema di normalizzare il suo il suo il suo partito di renderlo presentabile ed ha avviato un percorso che in qualche maniera la sganciata dall'eredità paterna dall'eredità del collaborazionismo francese Alternative Food Deutschland è ancora ben lontana da tutto questo quindi Salvini dovrebbe porsi il problema e credo che questa sia una questione molto 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 seria anche nel riflesso con diciamo fratelli fratelli d'Italia è chiaro che Giorgia Meloni ha fatto strategicamente da tempi non sospetti una scelta completamente diversa un punto che forse andrebbe sempre ricordato l'idea di spostarsi dal fronte populista al fronte conservatore nasce in Giorgia Meloni quando fratelli d'Italia non è ancora il partito che adesso conosciamo quindi evidentemente c'è stata un'intuizione secondo me felice per tempo però è chiaro se hai un alleato che invece coltiva quel tipo di rapporti in Europa diventa un problema anche nel rapporto immagini sicuramente esiste certo diventa un problema anche nei rapporti con Scholz come si è visto con Macron in Germania dove anche l'economia è molto in difficoltà scusa un momento dove è in difficoltà stavo chiedendo Andrea Cangini questo dove è in difficoltà anche Scholz il tema è anche e soprattutto questo le condizioni sociali del paese ci sono tante destre e quella tedesca è molto diversa da quella francese l'estrema destra ma la Germania è in recessione c'è un problema di identità forte c'è una conflittualità sinistra clamorosa la socialdemocrazia di Scholz sta al 13% tutto questo contribuisce a gonfiare le vele dell'estremismo con cui a ragione Campi non bisognerebbe trattare è un partito che è fuori dal perimetro sarà un problema per Meloni è già un problema è già un problema perché ogni volta che Salvini chiama a raccolta il suo mondo di identità e democrazia così si chiama il gruppo parlamentare a cui appartiene anche la Lega a cui appartiene anche Alternativa per la Germania è un gruppo molto estremista getta un'ombra di scarsa fiducia scarsa credibilità sull'intero governo e per di più quello è un gruppo che non tocca palla a Bruxelles notoriamente insomma militare in quel gruppo politico vuol dire non incidere minimamente nei processi decisionali europei questo lo vedremo però le prossime elezioni ma vedrai che insomma finirà comunque con una grande coalizione che porrà un problema serio che porrà un problema serio a Lameloni cioè c'è sempre un problema che non si possono alleare volevo sentire anche Lameloni ha già detto che voterà la Fondellai l'ha detto implicitamente ma l'ha detto è una cosa grossa rispetto alla retorica della scorsa elezione del Presidente della Commissione non la fa ancora andare verso un partito popolare europeo naturalmente no siamo sotto elezioni l'antieuropeismo paga più dell'europeismo lo sappiamo e questo pieggiare allora intanto ci sono altra notizia che la dice lunga vado da Antonello Caporale è appena uscita un tweet di Matteo Salvini che dice congratulazioni a Trump per la vittoria in New Hampshire e questo diciamo è un altro tassello Antonello Caporale sì mi colpisce di più la differenza attuale tra la sollecitazione e anche la verve democratica della società tedesca e l'appassimento del clima politico italiano c'è un libro tra le mani le piazze vuote di Filippo Barbera un sociologo torinese che ragiona documenta come esista una fascia una stinenza la gente non partecipa non solo non va più a votare ricordiamo ma tu lo ricordi bene che Lombardia e Lazio le due più grandi regioni italiane hanno visto il 40 e poco più per cento degli elettori andare a votare il 60 è rimasto a casa io ho chiesto perché anch'io sono preoccupato per la nostra sete e la nostra energia democratica e mi ha dato una spiegazione che mi convince uno dei fondatori dei girotondi li ricordiamo nel 2002 un'altra scena e un altro tempo e un'altra Italia e cioè Roberto Zaccaria che è stato presidente della RAI è un costituzionalista mi ha detto aspettiamo il passaggio delle europee quando ci sarà il referendum confermativo tutte queste anelli di congiunzione del melonismo che non riesce a rinunciare alla firma tricolore perché è un altro dei problemi e tutti gli atti verranno messi insieme e troveremo nella campagna referendaria un riscatto della società civile e quindi io penso che con qualche tempo posticipato rispetto alle energie delle altre società anche l'Italia vedrà una cosa che è necessaria non solo alla sinistra ma alla destra perché così secondo me è da paura le piazze sono vuote i comizi non si riescono a fare nemmeno gli incontri nei cinema e tra un po' nemmeno gli incontri al bar noi troveremo una politica una classe dirigente che è completamente nella bolla sua con il 30-40% dei votanti affezionati tre quarti di essi al di sopra dei 60 anni che sono purtroppo l'età anagrafica nostra dei giornalisti che parlano di politica e di coloro che commentano da protagonisti la politica e quindi è una bolla che invece dobbiamo rompere perché dobbiamo aprirla penso che la campagna referendaria prossima futura possa liberare le energie e anche il dibattito pubblico in Italia un po' di invidia di quelle piazze di Antonello Caporale ci è piaciuto ripeto che anche in Germania non è che è stata una sorpresa diciamo ha fatto così scalpore perché nessuno si aspettava nessuno si aspettava e poi chiaramente il portato della storia della Germania delle generazioni e della diversa partecipazione delle generazioni è un tema molto complesso bisognerebbe fare delle andagini sociologiche molto più approfondite perché per esempio i giovani climattivisti sono molto attivi e scendono moltissimo in piazza e il resto della società non è che sia in Germania no no parlo anche in Italia ci sono dei ragazzi che stanno attualmente sotto processo perché hanno gettato un po' di vernice lavabile sono piccoli non sono esattamente le masse ma ripeto che anche in Germania le masse sono state innescate da un evento che ha risvegliato una paura radicata profondamente noi abbiamo visto la piazza però abbiamo dei partiti di estrema destra al governo in Germania ancora non ce l'hanno abbiamo appena detto che la Lega che è in Europa insieme all'Efde sta in Italia al governo in Germania l'Efde non è ancora al governo quindi paradossalmente qui ha ragione caporale la situazione in Italia è ancora più grave e probabilmente la reazione non è proporzionata è stata al governo in tanti governi Salvini non è che ci è arrivato in questa formazione lo dimostrano vent'anni di storia di politica italiana grazie a Dio perché il centro si è perso si è completamente perso il centro in questo centro certo però questo tema delle piazze vuote della partecipazione delle diverse stratificazioni è un tema molto ampio abbiamo soltanto un minuto vedo che Alessandro Campi vuole avere l'ultima parola ma deve essere veramente breve brevissimo la Lega è alleata di Alternative for Deutschland in Europa è un errore perché non la porta da nessuna parte ma la Lega non è Alternative for Deutschland l'attenzione anche a questo gioco che capisco a punto di vista strumentale ma insomma la differenza dovrebbe essere abbastanza chiara la Lega non è quella roba lì per storia per dialettica interna quindi insomma non facciamoci prendere la mano dalla propaganda involontaria ne parleremo ne parleremo ancora abbiamo visto ci sono anche i libri c'è la citazione di Antonello Caporale ci sono anche i libri sulle piazze vuote queste sicuramente erano piene ne abbiamo parlato per questo Linea Andrea Pancani per Coffee Break grazie ai nostri ospiti a voi che ci avete seguito ci vediamo domani buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti